Dal 10 ottobre il quotidiano La Notizia avrà una sua edizione napoletana. Il giornale, giunto all'undicesimo anno di pubblicazione, sarà sia in edicola che online attraverso il sito ufficiale. La presentazione del nuovo corso editoriale del giornale Ai Piedi del Vesuvio si è svolta allo storico Gran Caffè Gambrinus. Previste due intere pagine dedicate a Napoli, con una particolare attenzione ai quartieri cittadini, oltre a una pagina nazionale della cultura. Nel primo numero del 10 ottobre la notizia ospiterà uno speciale, inoltre, sulla città di otto pagine. Sono molto soddisfatto per questa nuova presenza della notizia nelle edicone di Napoli, che testimonia più di qualunque altra cosa lo spirito con cui facciamo informazione. Sentiamo il direttore Gaetano Pedullà. Sarà un giornale che raccolterà le cose che non funzionano, sono tante, lo sapete, ma soprattutto le cose che funzionano e che possono essere portate all'attenzione nazionale, perché di Napoli non si faccia questo racconto che dilaga, di una città zavorra del paese. Noi pensiamo che invece questa sia una fonte di ricchezze e di crescita. Alla conferenza stampa anche il fondatore di Unione Popolare Luigi De Magistris, che per il quotidiano firmerà una sua rubrica, ed il giornalista Giuseppe Manzo. Anche io darò il mio contributo con una rubrica quotidiana che si chiama Senza Censura, quindi uno spazio di approfondimento, di inchiesta, di voci plurali, senza pregiudizio nei confronti di nessuno, ma senza il capochino nei confronti di nessuno. L'obiettivo è duplice, quello di fare una cronaca e anche un approfondimento su quello che è la realtà, i fatti che avvengono in città e anche l'evoluzione delle grandi questioni aperte a Napoli e a metropolitana e al tempo stesso proiettarla all'interno di un quadro nazionale.